Allora sono un intruso in mezzo alla compagnia Il Faro che lunedì prossimo la BCC Arena darà vita al loro spettacolo. Allora Franca ormai tu sei un abitué di queste tavole della BCC Arena, che cosa porterai quest'anno? Dunque è un atto unico che le casalinghe emancipate e poi ci sono diversi monologhi di altri autori. Ci sarà di che divertirsi? Certo, certo, il divertimento è assicurato perché con la compagnia Il Faro, con la Mercantini ridono i grandi e anche i pulcini. Ha fatto anche la rima, c'è una novità dicevi. Sì, dicevo quest'anno renderemo omaggio alla città che ci ospita da diversi anni, ricordando un autore fanese e quindi il dialetto sarà non solo pesarese ma anche fanese. Addirittura abbiamo anche una chicca, un pasqualon, un dialogo tra un pesarese e un fanese. Avete studiato e preso ripetizioni da qualcuno? Il fanese vi viene... No, no, cioè io... Da me i miei genitori erano della razzella, quindi ho capito un po' qua e là. Il nonno aveva la forneccia al fienil, quindi io sono cugina di fanese. Lunedì prossimo il Faro con? Le donne emancipate e poi tutto quello che c'è da ridere noi altri portiamo la tavola.